nella società. La seconda tecnica di potere è quella invece che risponde alla necessità della gestione di grandi masse di popolazione. A un certo momento il processo di creazione dello Stato moderno ha comportato la necessità di gestire grandi numeri di individui, grandi masse. La risposta del potere a questa urgenza è stato il biopotere. Il fatto cioè che il potere si occupi della vita degli individui, non tanto del loro comportamento ma di tutto ciò che riguarda i loro bios, gli aspetti immediatamente vitali della loro vita, la salute, l'igiene, la fertilità, la mortalità. Tutto questo è il campo di un biopotere. Ora il biopotere sembrerebbe apparentemente avere un'essenza positiva. In realtà non è così perché Foucault ha anche svelato il lato nascosto, il lato nero del biopotere. Proteggere una popolazione, assicurarne la salute, che è il compito essenziale dei biopoteri moderni, può richiedere in alcuni casi eliminare un pericolo o una minaccia rappresentati da una parte della popolazione stessa o da un'altra popolazione. In questi casi il biopotere si rovescia nel suo contrario, diventa un tanato potere, cioè un potere che in nome della vita è costretto a dare la morte attraverso massacri e genocidi.